Cos'è la percezione? La percezione è un processo attivo attraverso cui il cervello interpreta e organizza le informazioni sensoriali provenienti dall'ambiente. Anziché essere un mero recettore passivo di stimoli, la mente umana elabora attivamente i dati sensoriali, filtrando, selezionando e integrando le informazioni in base alle esperienze passate, alle aspettative e al contesto attuale. La selezione delle informazioni è un aspetto cruciale di questo processo attivo. La soglia assoluta di percezione rappresenta l'intensità minima di uno stimolo necessario affinché esso venga rilevato dal sistema sensoriale. Questa soglia varia tra individui e può essere influenzata da fattori come l'attenzione, la fatica o le condizioni ambientali. Ricordiamo che abbiamo parlato di soglia assoluta di percezione. L'attenzione selettiva, d'altra parte, è il meccanismo cognitivo che permette di focalizzarsi su determinati stimoli ignorandone altri. Questo processo consente di gestire efficacemente la vasta quantità di informazioni sensoriali che ci bombardano costantemente, concentrandosi su ciò che è rilevante per gli obiettivi o le necessità del momento. L'attenzione selettiva opera sia a livello conscio che inconscio, permettendo di dirigere le risorse cognitive verso gli stimoli più importanti o salienti nell'ambiente. Questi meccanismi di selezione delle informazioni sottolineano come la percezione non sia un processo passivo di ricezione ma un'attiva costruzione della realtà basata su processi cognitivi complessi e dinamici. I principi gestaltici. La scuola della Gestalt, nata in Germania all'inizio del XX secolo, ha rivoluzionato la comprensione della percezione visiva. Il suo principio fondamentale afferma che il tutto e più della somma delle sue parti, sottolineando come la mente umana tenda a percepire pattern completi piuttosto che singoli elementi isolati. Questa corrente psicologica ha enfatizzato l'importanza del raggruppamento percettivo, un processo attraverso il quale il cervello organizza automaticamente gli stimoli visivi in insiemi coerenti e significativi. I principi del raggruppamento percettivo, formulati dai teorici della Gestalt, descrivono le regole che il cervello segue nell'organizzare gli stimoli visivi. Questi includono la vicinanza, per cui elementi vicini tra loro tendono a essere percepiti come un gruppo, la somiglianza, dove elementi simili vengono raggruppati insieme, la continuità, che porta a percepire linee continue anche quando interrotte, la chiusura, che induce a completare figure incomplete, la simmetria, che favorisce l'interpretazione di forme simmetriche, la figura sfondo, che distingue gli oggetti dal loro contesto, il destino comune, per cui elementi che si muovono nella stessa direzione vengono percepiti come un'unità. Questi principi non operano isolatamente, ma interagiscono in modo complesso per guidare la nostra interazione delle scene visive. Interpretazione, scusate. La loro applicazione va oltre la semplice percezione, influenzando campi come il design, l'arte e l'interfaccia utente. La comprensione di questi meccanismi percettivi ha profonde implicazioni per come interpretiamo e interagiamo con il mondo visivo, evidenziando la natura attiva e costruttiva della percezione umana. Figura o sfondo? La percezione instabile. Le regole di Rubin, per distinguere le figure dallo sfondo, formulate dallo psicologo danese Edgar Rubin, descrivono i principi che guidano la percezione visiva nel separare gli oggetti dal loro contesto. Queste regole stabiliscono che gli elementi più piccoli, con vessi simmetrici o con bordi ben definiti, tendono a essere percepiti come figure, mentre aree più grandi, concave o meno strutturate, vengono interpretate come sfondo. La distinzione figura-sfondo è fondamentale per la nostra capacità di riconoscere e interpretare gli oggetti nell'ambiente visivo. Le figure ambigue, d'altra parte, sono immagini che possono essere interpretate in modi diversi a seconda di come l'osservatore percepisce la relazione figura-sfondo. Queste immagini sfruttano l'ambiguità intrinseca in alcuni stimoli visivi per creare percezioni alternative che possono alternarsi nella mente dell'osservatore. Esempi classici includono il vaso di Rubin, che può essere visto come un vaso o due profili umani, e l'anatra coniglio di Justrow. Le figure ambigue dimostrano la natura attiva e interpretativa della percezione, evidenziando come il cervello costruisca attivamente il significato dagli input visivi. Questi concetti sottolineano la complessità e la flessibilità del sistema percettivo umano, mostrando come la nostra interpretazione del mondo visivo non sia fissa, ma possa variare in base al contesto, all'attenzione e all'esperienza individuale. La comprensione di questi fenomeni ha implicazioni significative in campi come l'arte, il design e la psicologia cognitiva, offrendo intuizioni su come manipoliamo e interpretiamo le informazioni visive. L'interpretazione dei dati sensoriali Il mondo tridimensionale percepito in due dimensioni si riferisce alla capacità del cervello umano di interpretare la profondità e la tridimensionalità, a partire da informazioni visive bidimensionali. Questo processo coinvolge meccanismi complessi che integrano vari tipi di indizi visivi per costruire una rappresentazione tridimensionale coerente dell'ambiente circostante. Gli indizi fisiologici di profondità sono segnali derivanti dal funzionamento del sistema visivo stesso. Questi includono l'accomodazione, ovvero l'adattamento del cristallino per mettere a fuoco oggetti a diverse distanze, la convergenza, il movimento coordinato degli occhi per fissare un oggetto e la disparità binoculare, ovvero le lievi differenze tra le immagini percepite dai due occhi. Questi meccanismi forniscono informazioni dirette sulla distanza e la profondità degli oggetti, specialmente per quelli relativamente vicini all'osservatore. Gli indizi pittorici di profondità, d'altra parte, sono elementi visivi presenti nell'immagine stessa che suggeriscono la tridimensionalità. Questi includono la prospettiva lineare dove le linee parallele sembrano convergere in lontananza. L'occlusione, ovvero quando un oggetto ne nasconde parzialmente un altro. Le ombre e l'illuminazione, che forniscono informazioni sulla forma e la posizione degli oggetti. La dimensione relativa, dove oggetti più piccoli, appaiono più distanti. Poi abbiamo la texture gradient, cioè il cambiamento nella grana delle superfici con la distanza, e la prospettiva aerea, ovvero la tendenza degli oggetti distanti ad apparire più sfocati e bluastri. L'interpretazione di questi indizi fisiologici e pittorici permette al cervello di creare una percezione robusta della profondità e della tridimensionalità anche quando si osservano immagini bidimensionali come fotografie o dipinti. Questa capacità è fondamentale per la nostra navigazione nell'ambiente, l'interazione con gli oggetti e la comprensione delle relazioni spaziali nel mondo che ci circonda. La consapevolezza di questi meccanismi ha importanti applicazioni in campi come l'arte visiva, il design, la realtà virtuale e la computer grafica, dove si cerca di replicare o manipolare la percezione della profondità.